Bello a tutti ragazzi e benvenuti nell'undicesimo appuntamento della nostra Master League con la Roma Signori, io sono Maullo e prima di partire il video vi ringrazio per il like, per i commenti, per i suoi centri e per il supporto Vi ricordo di iscriverti al canale che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti E senza vostro supporto a noi io non ce la posso fare Dato questo signori, noi veniamo da una sconfitta contro l'Arsenal che è primo in classifica Con 7 vittorie, un pareggio e due sconfitte Quindi è una partita abbastanza difficile Ma ci siamo difesi abbastanza bene Siamo poveri, quindi come ho detto nello scorso video, siamo poveri Non abbiamo soldi, abbiamo fatto l'acquisto del buon bamba Aspettate che però io salvo Ci siamo signori, andiamo in campo per la nuova partita di oggi Io premetto che sto registrando in rapida successione Quindi se mi avete dato altri consigli sotto i commenti Non arrivo a leggerli in tempo Leggerò piano piano che poi i video verranno pubblicati Allora, ritorniamo con 4-4-2 Che secondo me è una buona soluzione A posto di Cellini andiamo a mettere Berlangen Che è alto 1,90 e ci sta A posto di Volata andiamo a mettere Juggins Che ha qualche statistica un pochino più alta E poi il buon bamba lo andiamo a mettere a posto di Simenes Vediamo un attimino la stato della rosa Dai, non è male a parte Juggins che è completamente giù E anche Babangeli è completamente giù C'era qualcuno un pochino più su Boucher Ma non mi fido di Boucher signori O come si pronuncia Contro il Borussia Dortmund Abbiamo subito un'altra sfida fuori casa Per rialzare la testa signori Un'altra partitona Un'altra partitona per rialzare subito la testa Ci riusciremo? Non lo so Ci possiamo semplicemente Dobbiamo sempre provare L'importante è provarci signori L'importante è provarci L'importante è provarci Anche perché noi partiamo Castello Castello Guarda, guarda Bamba Mamma mia che palla brutta Castello mio Bamba, Bamba, Bamba Bamba Mamma mia cosa ha sbagliato Bamba Di pochissimo signori Va bene, va bene Loro c'hanno Lehmann in porta Per Langen Fammi vedere che non ho sbagliato a inventarti in questa nuova posizione Stromer si ferma Stromer ancora cercato Babangita Babangita, Babangita è partito Babangita, Babangita, Babangita Babangita contro chi sarà Su quella fascia Contro nessuno Praticamente ancora una volta Contro nessuno E niente La volevo passare signore Ce l'hanno chiusi troppo La volevo passare E non E non me l'ha fatta passare Ci siamo andati a chiudere Calma, 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 calma Bravissimo Così teniamolo Va bene, va bene E vediamo che crossi E invece riuscite a crossare Buono Non torna lì Ma no Vabbè dai Però non possiamo fare Ste caracate Signori Sti passettini Sti passaggini stupidi Dai cavolo Porca miseria Valery Lo sai a chi la devi dare Bravissimo Valery trova subito Babangita Che con 1-2 fa fuori No Non riesce a fare il secondo fuori Il secondo giocatore Attenzione Speravo di riuscire a riconquistarla Palla sulla fascia Valery è sempre fuori ruolo Mamma mia Che giocatore Che giocatore No, 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 no Arrivano loro Un cross di testa Va bene Rimesso dal fondo per noi Ripartiamo Valery 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 Vede subito Babangita Che questa volta Vediamo se riesce a far fuori A 2 Lo fa fuori Signori Fuori a 2 Fuori a 2 Se ne va sulla fascia Babangita Mannaggia Stretto Abbiamo stretto troppo Abbiamo stretto troppo Quando non dovevamo stendere Stendere Sì Quando non dovevamo stendere Signori Abbiamo stretto troppo Quando non dovevamo stendere Mannaggia 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 Calma 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 Vediamo il posizionamento Dei ragazzi Calma Cambiamo fascia Perché se no No Mannaggia A me Che cambio fascia Mannaggia A me Che cambio fascia Grandissimo L'intervento Espimas Espimas Se ne va Espimas 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 Calma Calma Castello 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 Era Spalletta Irregolare Però Va bene Lascio Il dubbio Del dubbio Lascio La possibilità Del dubbio Se non è Era Spalletta Irregolare Questo è Fallo Perché te lo Medi Bastardo Che non sei Altro Va bene Calma San Capito Signori Calma San Capito No 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 Dai Ma perché No Vabbè Signori Dai Non può Essere Tutti I rimpalli C'è Lì L'avevo Presa Io Si è girato E ha tirato Va bene E noi non riusciamo A fare un gol Signori Questi tirano da tutte le parti E non riusciamo Babangita Tu devi giocarla davanti Babangita mia Babangita mia Devi giocar davanti Oh Mamma mia Come te la devo spiegare Sei nigeriano Ma non penso che non capisci Oh Babangita 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 Perché io l'ho sbagliato Perché Neanche azione da gol Era Perfetto Neanche un'azione da gol Verlangen Grande Verlangen Miranda Castello Castello Do sta Babangita Mamma mia Che brutta palla Corri Bamba C'è proprio Una squadra Da rifondare Proprio Una squadra Ci farebbero punti infiniti Per sistema acquisti Punti infiniti Mamma mia Mamma mia Ricordiamo Io ricordo a tutti I signori Che mi sono dato Massimo Due stagioni Per riuscire A raggiungere La serie 1 Ma di sto passo Secondo me Non riusciremo mai A raggiungere la serie 1 Anche perché Se non vinciamo Non prendiamo punti Se non prendiamo punti Non ci possiamo arrivare In serie 1 Grandissimi Non possiamo comprare I giocatori Se non compriamo I giocatori Non ci arriviamo mai In serie 1 Signori A pensare Babangita 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 Ma porca Niente Abbiamo preso Il secondo gol Signori Abbiamo preso Il secondo gol Grosso quanto una casa 2 a 0 Del Dortmund 2 a 0 Del Dortmund Io non Non so cosa Non so signori Ne avete detto Nei commenti Che porto troppo Eh vabbè Dai Ne avete scritto Nei commenti Che porto troppo Il pallone Ma non Non è incredibile Appena riesco Ad avere mezza azione Per dire Vado E segno E tiro Cioè C'ho sempre Un giocatore davanti Ecco Mi manca sempre L'ultimo guizzo Porca Porca paletta Ambriaca Cosa che loro invece Riescano a fare tranquillamente Perché mi è levato Il segnalino Quando gli avevo recuperato Il pallone Mannaggia Mannaggia a te Dai che era fuori Babangita Babangita Parte lui Babangita 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 Loro si sono ricompattati Loro si sono ricompattati Tu la crossi Tira la Tira la Dai così Juggins Non lo so che cosa L'ha fatto signori L'ha stoppata Forse aspettava che arrivasse Proprio il portiere Non lo so Cioè Grandissimo Il cross di Babangita Lui la stoppa Aspetta Con la controlla pure Nemmeno ha tirato di prima No l'ha controllata Proprio per dire Portiere ti aspetto Ma porca Siamo vivi Siamo vivi Siamo vivi Ma già sento il 3 a 1 Proprio A A A A A bruttazione Già lo sento Il 3 a 1 Proprio Proprio fatto Proprio perché mi devono Mi devono ammazzare Sulla fine del primo tempo Ci riesce a staccare la testa? No Non ci riesce a staccare la testa Bravissimo Dove sta Il castello? Babangita Bravo Babangita Che parte Babangita? Il Bamba Il Bamba Ah calcio d'angolo Va bene Va bene calcio d'angolo Miranda Dai Babangita Non ti far fregare la palla lì Babangita Babangita No Mamma mia L'avevo vista signore L'avevo vista Dai Ma Valeri Corri Valeri Devi correre Babangita lotta Fine del primo tempo Signori 2-1 per il Borussia Dortmund La teniamo aperta Ma La vedo un poco Difficile Andiamo a spostare Babangita Per le spimas E ripartiamo Ripartiamo Non la vedo Non la vedo Quadrata Non la vedo Non la vedo Non la vedo Bene La partita Però Però Chi siamo noi Per Non crederci Signori Chi siamo noi Per non crederci Nessuno Quindi noi Ricordiamo Che abbiamo Un super Babangita Su quella fascia L'unico giocatore Che sa correre Riesce anche A crossarla Per nessuno Bene Palla ancora Per Babangita Che non riesce A fare il suo Scatto micidiale Difensore centrale Ok Reguereva il pallone Buonissimo Miranda Miranda Vede No Porca Che cosa Cazzarola fate Signori Che cosa Cazzarola fate Ah Guarda loro Che ripartano No 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 Guarda come Gli ho lasciato Tutta l'aria A disposizione Spazza Buono 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 Stiamo attenti Stiamo attenti Perché il 3 a 1 Il 3 a 1 E la fine Della partita Ecco 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 Sti cazzarola di passaggi Così non li sopporto 9 minuti 9 minuti La partita è ancora aperta La partita è ancora aperta La partita è ancora apertissima Riusciamo a trovare Babangita Sì Riusciamo a trovare Babangita Che riesce a fare fuori Mezza difesa del Dortmund Babangita è partito Babangita è partito Babangita è partito Babangita è partito Cerca il cross Babangita E dai Però Mannaggia 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 Non mi riesce niente Di che Loro Ai 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 Forse dovrei mettere Babangita Più Dai Ma stoppala Stavalla Non soffiarci Col Col piede Yorga 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 Non lo tiene mai Non lo tiene mai Calma 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 Relax Calma Relax Babangita 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 Parti che siamo In contropiede Babangita Parti che siamo In contropiede Bamba Parti che siamo In contropiede Bamba Guardalo 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 Ma guarda chi Guarda chi Non così No vabbè Dai Avevamo l'azione Del 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 Contropiede Avevamo l'azione Del contropiede E questi sono Arrivati lì E questi sono Arrivati lì Attenzione Babangita Recupera un gran pallone Babangita Babangita Il Bamba 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 Calcio Daniel Va bene Dai che abbiamo Un'occasione Babangita Non ti fa fregare Sto pallone Babangita 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 Che peccato Ma è stata deviata Ma è stata deviata Ma è stata deviata Sto pallone No Ma noi Ce l'avamo riuscito A riconquistare bene Avevamo riuscito A riconquistare Un pallone Un punto del campo Grandissimo Babangita Che ci crede Babangita Non ci sta Ha un'altra sconfitta Babangita Non la vuole Un'altra sconfitta E quindi sta tenendo Su tutta la squadra Babangita 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 Angolo 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 Grande Babangita Porca miseria Era fuori Va bene Ma abbiamo un altro Caccio d'angolo A disposizione Ancora Babangita Nel suo contromovimento Se ne va Babangita In guadra la porta Il Bamba Non ci posso vedere Mannaggia Ma Dai 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 No Ma porca miseria Ho recuperato Un grandissimo pallone Ho recuperato Un grandissimo pallone Mannaggia Mannaggia Alla pupazza Mannaggia Alla pupazza Vai Babangita Che c'ha le praterie Vai Babangita Che ha le praterie Vai Bamba Vai Bamba Crossala Ma chi Ma chi Ma metti la giusta Dietro No Non così Calma 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 No Dai Un altro 2 a 1 Un altro 2 a 1 Mannaggia 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 Vacci in anticipo Mannaggia A te a chi ti fa giocare pure Porca No Vabbè Dai Con l'1-2 Questi vogliono Fare calcio spettacolo Questi non hanno capito Con chi stanno giocando Questi non hanno capito Chi hanno di fronte Questi vogliono Fare calcio spettacolo E allora Babangita Ve lo fa vedere Il calcio spettacolo Volete il calcio spettacolo Ci pensa Babangita Ci pensa Babangita Mannaggia Troppo Troppo centrale Troppo centrale Dove essere Dove essere Già più di lato Mannaggia Ci fa Ci frega di sto pallone Mannaggia 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 Dai porca miseria Dai porca miseria Babangita Credici Babangita Credici Tu Credici Tu Babangita No No Ma Ai 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 Mamma mia Con chi stiamo a perdere Con chi stiamo a perdere Mannaggia Di una miseria Con chi stiamo a perdere Io purtroppo Lo so Che sbaglio Che gioco sempre Solo su quella fascia Che Babangita Signori Ma è l'unico Che corre Che c'ha dribbling Mi non ti recupero Mi non ti recupero Palla Mamma mia Finita Finita No Mi dà ancora una chance Mi dà ancora una chance Vediamo se riusciamo A giocarcela Questa chance No Niente da fare Niente da fare Altra sconfitta Contro il Borussia Dortmund Seconda sconfitta Di fila Non riusciamo A trovare La quadra Della situazione Purtroppo no Purtroppo no E l'Ajax Ha pure vinto Mannaggia 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 Questa volta L'Ajax Ha pure vinto Quindi perdiamo Perdiamo anche Il contatto Con la terz'ultima Perdiamo il contatto Con la terz'ultima Che va A 12 punti Siamo messi male Siamo messi male Anche con una Vittoria Una futura Vittoria Andremo sempre A 11 punti Saremo sempre Dietro l'Ajax Niente da fare Signori Siamo così Siamo in questo Limbo inutile Detto questo Comunque non perdiamo La speranza Non perdiamo La forza E ci vediamo Sempre qui Sul canale Per continuare Questa avventura Con la Master League Signori Ci proveremo Ci proveremo Bella a tutti raga Ciao